Ieri è stato un giorno speciale per la comunità di Vena e di tutto Piedimonte Etneo. Infatti, nell'ambito della giornata dedicata all'apertura delle Porte Sante nell'anno del Giubileo Straordinario della Misericordia, voluto da Papa Francesco e iniziato lo scorso 11 dicembre, si è svolta anche la cerimonia di apertura della Porta Santa del Santuario di Vena. Il Vescovo Monsignor Antonino Raspanti ha scelto tre Porte Sante nel territorio diocesano. insieme al Santuario della Madonna della Vena, quella della Cattedrale Dieci Reale e quella del Santuario della Madonna di Valverde. Per tutto il periodo giubilare le Porte Sante saranno meta di pellegrinaggio. Ieri la cerimonia di apertura della Porta Santa del Santuario di Vena è stata particolarmente sentita, come vediamo dalle immagini girate da Sebastiano Rapisarda. La scelta del Tempio Mariano conferisce ruolo di grande rilevanza al Santuario di Vena, guidato da Padre Carmelo Larosa. Il Santuario di Vena è stato scelto dal Vescovo come santuario luogo giubilare, del giubileo, quindi quasi in coincidenza in seguito all'apertura della Porta di Roma. Anche noi abbiamo aperto la porta ed è un fatto di speranza più che altro. In questo mondo in cui tante porte si chiudono abbiamo paura l'uno dell'altro. Invece riprendere quell'invito di Giovanni Paolo II all'inizio del suo pontificato, quando diceva aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, è un simbolo, un segno questa porta che si apre perché le persone acquistano fiducia in Dio, nella Chiesa, negli altri. Tutto l'anno saranno giubilare, quindi le persone che verranno acquisteranno le indulgenze. Le indulgenze sono come dei crediti che la Chiesa concede alle persone, facendo delle preghiere, accostandosi ai sacramenti e soprattutto compiendo anche un'opera di carità si acquistano dei crediti speciali che la Chiesa concede in occasioni straordinarie. Di per sé il giubileo è ogni 25 anni quello ordinario e c'è stato nel 2000 l'ultimo. Questi sono giubilei straordinari. Questo giubileo il Papa Argentino, che parla tanto della misericordia, ha voluto proprio un anno giubilare sulla misericordia. Quindi attraversando la porta del Santuario di Vena si potrà acquistare l'indulgenza plenaria, diciamo. Sì, si acquistano delle indulgenze, ma più che altro è più che le indulgenze, che quasi sempre un fatto di do o tedesse, ma è un fatto di fiducia. C'è una speranza, c'è una porta aperta. Poi si abbina bene a Vena, perché a Vena il Santuario è sempre aperto, tutto l'anno, tutti i giorni, dalla mattina alla sera, la porta è sempre aperta. Quindi avere delle porte aperte per la gente è importante. Quando io passo per strada e trovo delle chiese con le porte aperte, è già fatto che sia aperta, anche che non ci va nessuno. Ma è un lancio di fiducia, insomma. Allora Vena, che ha la porta sempre aperta, rappresenta questa porta aperta della chiesa e anche queste braccia aperte di Dio che ci accolgono sempre. Don Carmelo Larosa illustra poi ai nostri microfoni l'iniziativa da lui lanciata al fine di dare un segno tangibile della fiducia all'insegna della quale si è aperto l'anno giubilare. Mi sono posto il problema, ma che cosa serve il nostro giubileo ai lontani, quelli che non vengono, agli altri, ai poveri, a tezzo mondo, che cose ne ricevono gli altri? Ci ho pensato, la cosa mi ha turbato, mi ha preoccupato, ho riflettuto. Alla fine lì per lì ho lanciato l'idea, facciamo una campana che offriremo a una chiesa delle povera, magari possibilmente dell'Abbania dove sono stato 12 anni e lì ho costruito tre chiese, possibilmente dell'Abbania o del Kosovo dove anche sono stato, conosco quindi le realtà. Quindi ho detto che chi vuole in quest'anno può contribuire e poi al fine anno facciamo questa campana, naturalmente gireremo il giubileo, il santuario di Vena arriverà fuori e poi ho detto la portiamo noi stessi, tutta questa idea di andare a vedere, eccetera, è entusiasmato a tutti.